Il santuario di Europa Il santuario di Europa è adagiato in una conca fra le montagne ed è oggi un grande complesso architettonico il cui primo nucleo sembra risalire al IV secolo d.C. Il santuario di Europa Risalendo la valle si avvista il rifugio Savoia raggiunto anche da una funivia Di qui inizia la copertura nevosa che si fa sempre più consistente ma è ben compatta e ricopre ancora interamente il lago del Mucrone Alcuni bei declivi conducono alla bocchetta del lago Il colletto è sovrastato dall'anticima del Monte Mucrone Mentre sull'altro versante si scorge la punta Verzel Ridicendo al rifugio Savoia dal quale la vista spazia sulla pianura con le risaie del Vercellese Una bella strada panoramica all'interno dell'oasi Zegna porta a Bielmonte Il vasto panorama comprende il Monte Rosa Oggi incappucciato La dorsale che culmina il Monte Marca è una formidabile balconata sulle pianure Sul Monte Mucrone Sul Monte Marsa e sul Monte Camino Del Monte Mucrone Grazie a tutti.